Cambio al vertice alla prefettura di Salerno entro fine luglio, forse agosto, Salvatore Malfi lascerà il posto a Francesco Russo. L'ufficialità è arrivata al termine di un consiglio dei ministri che ha approvato un ampio movimento di prefetti in tutta Italia. Nato a Napoli il 30 giugno del 1959, sposato con due figli, Russo si è laureato in giurisprudenza nel 1983 presso l'Università degli Studi di Napoli. Ha conseguito anche il diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione e ha superato gli esami di donetà per l'abilitazione e l'esercizio della professione di procuratore legale. Assunto nel 1987 alle dipendenze dell'amministrazione civile dell'interno, ha prestato servizio fino al 2007 presso la prefettura di Parma, dove ha svolto l'incarico di capo di cabinetto, occupandosi prevalentemente di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, rapporto con gli enti locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato. Russo è attuale prefetto di Ravenna, dove era stato nominato nel dicembre del 2014 al posto di Fulvio della Rocca, lasciando il precedente incarico in provincia di Verbani, Accusio, Ossola. L'attuale prefetto di Salerno Malfi invece sarà destinato ad un incarico di ispettore generale di amministrazione. Era giunto a Salerno nel dicembre del 2014, Casertano aveva sostituito la dottoressa Antonella Scolamiero, costretta a lasciare per i problemi di salute che l'avevano colpita nell'estate del 2014, dopo sei mesi dalla nomina avvenuta nel giugno di quell'anno. Prima di giungere a Salerno, Malfi era stato prefetto di Vercelli e proprio nella provincia piemontese è rimasto coinvolto in una inchiesta per abuso d'ufficio che va avanti, che l'aveva portato nei mesi scorsi anche a un periodo di sospensione.